Musica Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo purtroppo con la notizia di un incidente dove ha perso la vita un centauro di 61 anni. Muore nello scontro tra auto e ciclomotore ad avere la peggio un uomo di 61 anni abitante a Camucia ma originario di Passignano. L'uomo Ettore Gervini d'anni abitava nella frazione cortonesa a pochi metri dalla zona del Vallone dove si è verificato il tragico contatto che gli è costato la vita. Erano poco, passate le 17, i due mezzi secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale di Cortona stavano procedendo nella stessa direzione. A quanto pare stavano andando in un bar della zona. Il contatto si è verificato quando la moto ha stersato a sinistra ed è stata tamponata dall'auto che sopraggiungeva. Nel botto il Cervini ha perso l'equilibrio e nell'impatto con l'asfalto ha perso la vita riportando ferite letali. Anche il conducente della vettura, una panda, è rimasto ferito. Si tratta di un 79enne della zona che è stato trasferito all'ospedale di Siena in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, l'ambulanza, i BLSD della misericordia di Castiglione Fiorentino, i vigili del fuoco di Cortona e la municipale, sempre di Cortona, che ha eseguito i rilievi di leggi. E la Regione Toscana propone dei bonus per i medici di famiglia per incentivarli a lavorare nelle zone più disagiate. Sono soprattutto le cosiddette aree svantaggiate, come comuni montani e piccole frazioni, a soffrire maggiormente della carenza di medici di medicina generale. Questione che torna sotto i riflettori anche in seguito al bando della Regione Toscana per 250 medici di famiglia, che si è chiuso alcune settimane fa e al quale hanno risposto solo 50 professionisti. La Regione Toscana pensa degli incentivi per convincere i medici a rimanere nelle zone con maggiori difficoltà. Per il Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Arezzo, Lorenzo Droandi, si tratta di un'ipotesi corretta, ma i bonus devono divenire una misura strutturale. Bisognerà ragionare non solo e non tanto di incentivi, quanto di rendere appetibile la formazione in medicina generale e il recarsi a fare la medicina generale anche nelle zone più svantaggiate. I comuni anche con le parole del Presidente dell'Anci Matteo Biffoni hanno dato la loro disponibilità, chiaramente dicendo che hanno dei limiti. Cosa si può fare al di là di questa strutturalità alla quale lei accennava anche per creare una collaborazione tra gli enti? Credo che si possa fare ricorso a delle case della salute o case della comunità, dalla quale inviare sul territorio, anche nelle zone più disagiate, i medici o comunque il personale necessario. Allora, parlando per esempio del Casentino, giusto per fare solo un esempio, si può pensare a una casa della salute in una zona centrale, Bibbiena, Poppi, in cui vengono impiegati medici, infermieri, amministrativi e tutto quello che deve servire e che possano giornalmente essere inviati nelle zone più disagiate. Apriamo una breve pagina politica. La recente intervista di Matteo Salvini accelera il processo che riporterà a scegliere Presidente e Consiglio Provinciale in maniera diretta. Ma ancora non c'è accordo fra le forze politiche, i possibili papabili per la Presidenza. In Commissione le proposte presentate nei vari partiti dovranno essere uniformate con un disegno di legge che possa garantire il ritorno alla lezione diretta del Presidente della provincia e dei relativi consiglieri. Ma come dice un vecchio adagio tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Infatti i nodi da sciogliere sono legati alle attribuzioni, soprattutto al personale, passato in gran parte alle regioni dopo la riforma del Rio e soprattutto le risorse variabili e indispensabili per la vita di un ente. Che lo strumento sia indispensabile soprattutto per i comuni in primis quelli più marginali e la parissiano sotto il profilo politico Fratelli d'Italia sia già espressa in maniera favorevole alla pari della Lega che proprio in questi giorni con Matteo Salvini ha dato una sensibile stersata alla questione. L'intenzione è quella di tornare al voto proprio nella primavera del 24 quando i cittadini saranno chiamati alle urne per le europee e anche per le amministrative in provincia di Arezzo saranno 26 i comuni interessati. Tra i papabili per lo scherano più alto in Sala dei Grandi nel centro-destra potrebbe essere la volta buona per Mario Agnelli che ha esaurito il mandato a Castillo Fiorentino ai titoli per giocare le sue carte per la provincia. Dovrà però ricucire con gli alleati perché il colpo di mano che ha portato alla nomina di Polcri ha acuito le frizioni che lo hanno visto. Protagonista nel centro-sinistra la partita sarà tutta valdarnese e Innocentio Sanni da una parte e Sergio Chiedi dall'altra potrebbero essere i candidati giusti per tentare la scalata. Ed è stata inaugurata la 61esima edizione di Cortona Antiquaria. Sentiamo. È l'edizione numero 61 per una rassegna che col passare del tempo conserva il suo fascino. Taglio del nastro a Cortona per la 61esima edizione di Cortona Antiquaria. Oltre 20 gli espositori per l'edizione 2023, molte le opere esposte di scuole origine diversa, a testimonianza di un evento che ha un rilievo di carattere non solo nazionale. La mostra di quest'anno vuole essere un viaggio dalla Spagna al Caucaso, nell'anno in cui le riaperture portano le persone a volere ancora partire e scoprire luoghi e città. Cortona Antiquaria si connota anche per gli eventi collaterali. Quest'anno una collaterale tutta dedicata all'Ottocento, con la mostra che mette in evidenza i macchiaioli Livorno, un particolare momento della storia dell'arte italiana dell'Ottocento. Come ogni anno, integra la manifestazione un programma di varie iniziative, tra cui il premio Cortona Antiquaria. Quest'anno il premio andrà a Vittorio Sgarbi. La mostra si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iure Consulti, con la collaborazione di Furio Velona Antichità. Il personale del reparto Volo Vigili del Fuoco di Arezzo è intervenuto oggi con elicottero Drago 60 in località Sestino, presso Sasso di Simone, per il recupero di un cane caduto all'interno di una cisterna di epoca antica in zona boschiva. Individuato l'animale, purtroppo ormai deceduto, è stato effettuato il recupero tramite tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviale. Ma quanto hanno speso i toscani per le violazioni al codice della strada? Intanto sappiamo che gli aretini sono a metà classifica. Per il resto sentiamo Luca Tosi. 3 milioni e 800 mila euro è la somma pagata dai guidatori aretini nel 2022 per le violazioni al codice della strada. L'analisi è stata condotta dai portali facile.it e assicurazione.it ed è stata realizzata esaminando i rendiconti dei proventi delle violazioni del codice della strada. Guardando i numeri assoluti è risultata essere Firenze, con poco meno di 47 milioni di euro, la città capoluogo di provincia toscana che nel 2022 ha ricavato i proventi maggiori, seguiti da Grosseto e Livorno. Sul versante opposto troviamo quasi a pari merito Lucca e Massa. Rapportando le multe al numero di autoveicoli e motocicli in circolazione, la classifica toscana vede ancora Firenze al primo posto. La spesa pro capite per multe a Firenze è stata di 170 euro. Seguono Siena 128 euro e Grosseto 126 euro. Arezzo ha una spesa pro capite di 45 euro. Sanzioni al di sotto dei 30 euro per Massa e Lucca. Automobilisti a retini quindi più rispettosi delle regole di altri loro corregionali? Sembrerebbe di sì. Certo che 3 milioni e 800 mila euro destinati al pagamento delle multe, secondo i dati del 2022, rimangono una somma consistente. Torniamo alla cronaca. È stato sorpreso e arrestato dai carabinieri mentre spacciava due dosi di cocaina. Si tratta di un 29enne di origine albanese. L'uomo è stato arrestato a Magione dai carabinieri di Città della Pieve. I militari che da qualche giorno monitoravano i suoi spostamenti lo hanno seguito mentre si trovava alla guida di un'auto presa a noleggio e lo hanno poi colto sul fatto mentre cedeva lo stupefacente. Nei guai anche una donna di 47 anni che è stata segnalata alla Prefettura. In tutto sono stati recuperati 13 grammi di cocaina e 440 euro provento di spaccio. Il 29enne sarà processato con rito direttissimo. Voltiamo decisamente pagina. Recorre il 79esimo anniversario della strage avvenuta presso la caserma dei carabinieri di Anghiari il 18 agosto 1944. Anghiari, come ogni anno, ha reso omaggio alle vittime di quell'attentato, ricordando uno dei giorni più tragici della sua storia. Cerimonia toccante con la deposizione di una corona di oloro nel cippo che ricorda il sacrificio di tanti innocenti alla fine della guerra. Anghiari non dimentica la messa, il corteo e il saluto del sindaco Alessandro Polcri e del comandante provinciale dei carabinieri Gianfranco De Crescenzo. Sono passati 76 anni da quella tragedia, dalla bomba di Quell'Ordigno che scoppiò proprio in questo luogo. Oggi rimane il cippo originario che ci ha lasciato Don Nilo Conti che fece le prime trascrizioni proprio del verbale di quegli accadimenti nei giorni successivi alla bomba. Poi abbiamo mantenuto anche questo luogo in modo dignitoso e qualche anno fa abbiamo anche rifatto la stele dietro con tutti i nomi delle 15 vittime, che fu l'ultimo elemento, l'ultima coda delle rappresaglie legate alla resistenza. Dunque sono passati 79 anni, dunque è un dovere ricordare che le istituzioni sono oggi qui presenti. Torniamo ora in Umbria, serie di controlli sul territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Perugia. Due persone sono state denunciate. Si tratta di un 44enne romeno residente a Perugia con precedenti di polizia, autore di un furto di calzature in un negozio di Corciano e un 45enne italiano residente a Durbino sorpreso alla guida della sua auto ubriaco. Gli stessi carabinieri hanno accertato 36 violazioni al codice della strada, hanno controllato 18 persone sospette e 4 veicoli. Infine due donne sottoposte agli arresti domiciliari saranno segnalate all'autorità giudiziara per aver violato il provvedimento. Siamo andati a sentire cosa ne pensano gli aretini e anche i turisti sulle aperture dei supermercati nei giorni festivi. Siete a favore delle aperture domenicali dei negozi? Negozi stiamo parlando della grande distribuzione? No, assolutamente no. Perché? Perché penso che le famiglie abbiano il diritto di stare a casa. Favorevolissimi. Perché? Perché durante la settimana tutti lavorano, l'unico giorno per fare la spesa è la domenica. Anche lei? Contrario. Perché? Perché io ci vado durante la settimana a fare spesa. E perché sei contrario? No, perché sei contrario per chi lavora sui supermercati. Tu dici almeno la domenica a casa con la famiglia? La domenica. A Natale? Ma a Natale sì, anche. Vabbè, i giorni festivi è differente, però durante la settimana tradizionale, dato che la maggior parte delle persone non hanno tempo, l'unico tempo è la domenica e sarebbe opportuno che se sono aperti. Dipende dai dipendenti, non so se sono favorevoli loro. E forse i dipendenti preferiscono stare a casa? Penso anch'io. Quindi lei li lascerebbe a casa? Nel senso buono, eh. Sì, 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 da domenica a Natale. Lei si può organizzare per la spesa? Ma certo, certo. Penso non è un problema, come si faceva una volta, no? Del resto. Allora, sono comodi, però conosco i genitori dei miei amici che ci lavorano e è abbastanza impegnativo. È un sacrificio. È un bel sacrificio, però sono comodi. Diciamo sono contraria, perché ho lavorato e la domenica non è bello. Abbiamo la nostra famiglia, abbiamo tutto, la nostra vita praticamente è finita. C'è il pro e il contro, come di tutte le cose, a volte fa anche bisogno all'ultimo momento di qualcosa, però prima se ne faceva meno, si può fare a meno benissimo anche ora, ecco, io la penso così. E la regione darà in beneficenza la carne di selvaggina abbattuta. Carne da selvaggina in beneficenza. La Toscana raccoglie e distribuisce alle persone più bisognose le carni di selvaggina degli ungulati abbattuti nell'ambito dei piani di controllo per il contenimento della fauna. Si tratta per lo più di cinghiali. Lo fa attraverso il Banco Alimentare della Toscana, con ispezioni rigorose prima che le stesse arrivino a tavola. Un'azione messa in campo dalla regione con doppia finalità, sociale e sanitaria, e che arriva con una delibera approvata dalla Giunta e presentata dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che assegna alle aziende sanitarie le risorse in tutto 40.000 euro l'anno per i prossimi due anni, necessarie al rimborso dei costi sostenuti dai centri coinvolti nella lavorazione delle carni e degli animali. L'iniziativa, oltre agli obiettivi sociali, come spiega lo stesso assessore, risponde anche a finalità di carattere igienico. La carne, infatti, prima di essere distribuita, sarà ispezionata nei centri di lavorazione selvaggina dai veterinari delle ASL. Secondo l'assessore Stefania Saccardi, assessore all'agricoltura, è un modo per rispondere ai bisogni delle fasce di popolazione più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità. Voltiamo pagina, un omaggio a Pinocchio, a 140 anni dalla nascita del celebre Burattino. L'appuntamento è fissato per le 21 di sabato 19 agosto, quando Raggiolo ospiterà lo spettacolo itineranti Le Voci di Pinocchio, che, organizzata dalla brigata di Raggiolo e messo in scena dall'associazione culturale Noide alle Scarpe Diverse, permetterà di vivere un innovativo progetto teatrale rivolto ad un pubblico di giovani spettatori. La serata sarà partecipazione gratuita e sarà diffusa tra i vicoli, gli angoli nascosti e le piazzette di uno dei borghi più belli d'Italia. Lunedì 21 agosto alle 21.15 la musica risuonerà tra i vicoli di Raggiolo, con l'attesa serata di jazz alla Bastia con l'Ivan Elefante Quartet. E a Giovi i residenti fanno il punto della situazione sugli spazi urbani. Alcuni abitanti di Giovi segnalano situazioni di disagio all'interno del paese. Se ne fa portavoce il consigliere comunale Donato Caporali. Quali soprattutto? Due sono le questioni principali. Una è Annosa e va avanti da 30 anni, che è il superamento della barriera ferroviaria dei due passaggi a livello. Esisteva un progetto di sottopasso che purtroppo langua ancora nei cassetti. Un altro è quello della realizzazione di marciapiedi ma anche di strisce pedonali rialzate nella zona di Pontalachiazza, dove c'è un traffico importante, ma dove sono anche tutti gli esercizi commerciali, dove andrebbe garantita maggiormente la sicurezza dei pedoni. Voi avete segnalato in passato questi problemi all'amministrazione comunale. Continuerete a segnalarle? Sì, continueremo a segnalarle. Non solo io, ma anche le associazioni. L'hanno più volte segnalate del territorio all'amministrazione comunale. Ma ci sono anche altre importanti questioni magari più piccole, che sembrano di minore importanza, come ad esempio l'extanzificio oppure la manutenzione dei giochi nell'area verde, che sarebbe importante soprattutto per i bambini, o l'installazione e il recupero di un lampione in piazza. Sono molti coloro che dalla città scelgono di venire a vivere qui? Sì, la popolazione della zona è importante, è uno dei paesi più importanti di tutta Arezzo Nord e Giovi, oltre a Quarata. Forse anche perché è ottimamente servito dai mezzi pubblici? Sicuramente abbiamo il trenino, la corriera, due corriere, anzi due linee. Torniamo in Valtiberina. Si sono svolte stamani le operazioni di spostamento del Doche D'Ecaedro, dalla centralissima piazza Torre di Berta all'altrettanto affascinante piazza Garibaldi, dove resterà fino al termine della festa del Palio, che prenderanno il via il 31 agosto. Il poliedro opera concessa dalla famiglia Mercati, da tempo ormai campeggia nella piazza principale della città, dove dalla prossima settimana saranno montate le tribune in cui si svolgeranno gli appuntamenti delle feste del Palio. Le operazioni sono avvenute in massima sicurezza e sono state compiute dal personale incaricato dall'azienda Aboca in collaborazione con gli agenti di polizia municipale e funzionari comunali. grande successo anche quest'anno per Tovaglia a quadri. ripetersi non è mai facile ma la premiata ditta Merendelli Pennacchini con l'edizione 2023 di Tovaglia, a quadri, ha avuto la definitiva consacrazione, se mai questa fosse necessaria. Una stagione che ha fatto registrare un grande successo di partecipazioni di critica, commedia brillante che tratta di temi seri come quello dello spopolamento delle aree rurali in mezzo alle contraddizioni della politica sanitaria regionale che anche in Valtiberina ha palesato molte falle. Ad iniziare dalla chiusura del punto nascita di Sansepolcro non mancano i momenti esilaranti accompagnati da battute sarcastiche che fanno riflettere di rilievo anche le singole prestazioni degli attori che hanno sfoggiato una padronanza del ruolo tenendo sempre alta l'attenzione dei presenti. Tutti bravi ma una citazione particolare se la prende Fabrizio Mariotti, uno della vecchia guardia che ha interpretato il suo personaggio in maniera molto vera, conferma di come Tovagliacquadri riesca a coinvolgere e promuovere quella che è l'essenza vera del teatro popolare. In queste brocche c'è il famoso orgio di Anghiari. Sicuramente una delle migliori rappresentazioni da quando questa è stata inventata. Un grande successo, una storia incredibile, straordinaria che però ci ha fatto riannodare le fila con un passato che sembra lontano invece offre dei temi molto attuali. Le culle sono vuote, il tema è quello che non si fanno più i figli, abbiamo cercato di raccontare quali sono le chiavi e le soluzioni, speriamo che la luna ritorni a essere piena. Un ciclo di eventi per valorizzare e raccontare il contributo delle donne nella scienza, nella ricerca e nello sviluppo della società. Donne in scienza è il progetto delle Acli di Arezzo che tra settembre e dicembre si svilupperà tra laboratori, cinema e teatro. L'obiettivo è quello di stimolare una riflessione sul tema dell'emancipazione femminile. Il percorso è stato realizzato con il contributo dell'assessorato Pari Opportunità del Comune di Arezzo e farà affidamento sul sostegno di AISA e impianti e sul coinvolgimento di numerosi partner. E adesso dedichiamo un minuto per ascoltare appunto il palinzesto di questa sera su Teletruria. Subito dopo il telegiornale delle 20.30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia. Oggi curato da Maddalena Pieroni e dedicato al Candlelight Concert che ha chiuso il Monte San Savino Festival edizione 2023. Farà seguito 9.10, informazioni ed attualità. La serata proseguirà poi con il film Dio salvi la regina con Sibilla Barberi, Igor Mattei, Babac Carimi e Della Gorini per la regia di Andra Sarcher Maldonado. Adesso è veramente tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon fine settimana.